ciao a tutte allora oggi vi voglio parlare di questo siero del liver shea si tratta del siero serum vegetale rughe compattezza siero ultra rimpolpante è questo qui e come potete vedere l'ho completamente finito allora prima di tutto il prezzo che per 30 ml di prodotto costa l'ho segnato 22,95 ma il prezzo è scontabile quindi con le promozioni dei volantini degli album oppure con le promozioni dei negozi tranquillamente è scontabile dice di essere eccola qua con contiene l'erba cristallina che è detta anche pianta della vita perché perché tende a ricompattare naturalmente la grana della pelle allora il siero che intanto vi dico che ha un profumo delizioso è molto fresco delicato non persiste sulla pelle però è un siero che è bello penso di aver messo lo swatch comunque è un siero che è bello compatto ma comunque sia e si estende molto bene sul viso e assorbe immediatamente sulla mia pelle mista è perfetto al mattino da applicare come base per il trucco non mi va a ungere la pelle o a lucidare la zala t quindi ottimo e devo dire che durante l'applicazione è un 30 ml mi durato davvero mesi perché applicato solo al mattino basta davvero solo una una pusciata push e ho notato che la pelle era più compatta e meno visibili i pori o i segni certo non fa miracoli sicuramente però più compatta e più elastica e trovo che sia davvero un buon prodotto dice di applicarlo mattina e sera su tutto il viso ma io l'applicavo solo al mattino oltretutto e ha un potere idratante che mi piaciuto devo dire che davvero un buon prodotto guardavo se c'era qualche altro indicazione da dirvi perché come sempre cosa che mi piace molto di questo marchio è che le indicazioni sono scritte sulla scatola e all'interno all'interno della scatola quindi non si va a sprecare neanche carta per indicazioni cartine questo è un trattamento che sicuramente io vi consiglio partire dai 30 anni anche di più ecco già passati da un bel po' è un trattamento che vi consiglio davvero a meno di provare perché è davvero valido anche per chi ha la pelle normale o secca comunque sia se la mattina utilizza il trucco quindi questo come base trucco oppure applicato prima da un'altra crema davvero si vede la differenza con il tempo si nota davvero la differenza è stata una piacevole scoperta che io sicuramente ricompro magari aspetto il periodo estivo e poi in autunno sicuramente questo lo ricompro perché mi è piaciuto un sacco e che vi consiglio anche a voi ok allora io direi che vi ho detto tutto perché davvero non so che altro dirvi oltre che lo ricompro quindi mi è piaciuto fatemi sapere se lo avete provato anche voi e come siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni veloci dei prodotti beauty e mi raccomando anche di cliccare anche sulla campanella qui sotto così verrete avvisate con una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao